Buongiorno agli amici del Festival di Poesia di Bologna. Io mi chiamo Alfredo Panetta e scrivo in dialetto calabrese della provincia di Reggio Calabria. Mi trovo in questo momento nella mia officina. Vi leggerò due poesie ispirate dall'ambiente del lavoro. La prima si intitola E' un ommarraggio. Vedi, sparte l'occhiato o me collega di fottivo tempo. Staci innanzi io torno solo se passa un capofficina. Un chiaopetto come un caio di certe approvazioni. A me mi guarda di lato un per suo vascio come una merita di essere guardato. Ma io non mi arraggio, sai. Stai da pace con il lavoro consiglia. Ma che capiscivo tante cose, mi pensavo di farlo. Potessere una vita ad alta precisione, oppure un uccito a un momento buono. Stai ciò qual è la differenza tra la mancanza e la perdita. E stai ciò che la prepotenza dura un tempo in una rosa. Stai ciò che ogni rosa teme in parte desuguale luci ed ombre. E' un paro di un mestiere che ogni giorno mi maraviglio il mio e il tuo lavoro. E così, senza pretesi, voglio innanzi. E adunque guardo me collega come solo due vasci si può fare. Lei è un caso a pochezza, un ente d'oglio. Io, così sfortunato, non mi amo un travaglio. La seconda poesia si intitola Un boschetto. Mi sposto da un travaglio, se mi fido. Cerco un tallare a netta tra l'erbiceia. C'è un'altra cosa che mi ha detto che trascurato potessere la natura servaggia di un battere. Oggi, scaricati le finestre, mi trovai a un'altra un boschetto. Ma non mi spingo due noti e una goce che mai si sentì. Maria che mi invita a un banchetto in una nuova stagione. Si vicina a D, massomeno, cu' canta due chianchi da folia. Chiudo l'occhio. Cosa sapere che chi pensa se pensa se tiene giudizio di io stesso come a noi, dannati per chiesto per sempre? Cosa sapere che chi pensa se tiene giudizio di io stesso come a noi,